Ciao a tutti, sono Serena, Esport Lecco e Cesana Brianza. Le novità di quest'anno a Cesana sono davvero per tutti, anche per i più piccoli. Quindi a Cesana Brianza non solo più scuola nuoto, ma anche karate e arti circense e acrobatica. Quindi chiamate il reception, cari genitori, perché i vostri bambini quest'anno avranno davvero tantissime cose da fare insieme a noi. Ciao a tutti!